Entriamo nella via dell'umiltà La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro gridava Anche oggi, benedetto nel suo ingresso in Gerusalemme, Gesù ci mostra la via Al facile trionfalismo, colui che viene nel nome del Signore ha risposto rimanendo fedele alla sua via La via dell'umiltà Questa è la Pasqua che oggi chiede a tutti noi nella nostra casa Felice Signore è la nostra famiglia La nostra casa è il tempo che stiamo vivendo I nostri cuori vogliono innalzarsi al cielo Per raccontare il desiderio di vedere il tuo volto Accompagnaci in questa settimana Indicaci la strada da percorrere Per resistere nella fatica della prova Per seguirti nella passione e raccontare a tutti che abbiamo incontrato te Grazie a tutti i nostri spettatori